Frankenstein, allora è tutto vero. Mi hanno creato 200 anni fa. Nessun altro è come me. La tua forza, la tua velocità, la tua resistenza sono uniche. Puoi usare questi doni in una guerra che ti appartiene. Io combatto a modo mio. Non puoi fermare la razza umana. Nessuno può fermare la loro autodistruzione. Devi seguirmi. Là fuori c'è un intero esercito di mostri simili a me. Saranno migliaia. Tutto il mondo rischia l'estensione. Ad esempio è un intero esercito di mostri anni fa. Grazie a tutti.